Attenzione, il treno in transito ordinario 1 allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, il treno in transito alle ore 17.55, proveniente da Venezia a Santa Lucia in diretto a San Pellegrino. Attenzione, il treno in arrivo al pinario 6. Finalmente sono arrivato al quartiere medievale di San Pellegrino, dove il tempo si è fermato, dove io mi so fermato, dove tanta gente si è fermata. E ci si tuffa in un passato di ineffabile bellezza, con i tropperli per salire al primo piano. Per affacciarsi sul richiastro e chiamarla amico cane e tirare un boccone per mangiare. L'amore in corso a San Pellegrino, per la salute vieni a San Pellegrino, nel cuore di Giterbo, vieni e rilassati un po'. Quanti amori nascono a San Pellegrino, la notte è dolce a San Pellegrino. Il mondo si raccoglie tutto in un istante. E il tempo si ferma in un momento. Il mondo si raccoglie tutto in un istante. E il tempo si ferma in un momento. Case e torri, ricchi astri e richi astrine, poi i profferli, colonne d'archi tra piccoli medievali. San Pellegrino, San Pellegrino Tutto questo San Pellegrino C'è un portico a due campate Sembra il tuo cuore Attraversato dalla freccia Dalla freccia della via Francigena Che fa cadere due gocce d'arte Nella bella Viterbo L'amore in corso a San Pellegrino Per la salute vieni a San Pellegrino Nel cuore di Viterbo Vieni e rilassati un po' Quanti amori nascono a San Pellegrino La notte dolce a San Pellegrino Il mondo si raccoglie Tutto in un distante E il tempo si ferma in un momento La notte dolce a San Pellegrino La notte dolce a San Pellegrino La notte dolce a San Pellegrino La notte dolce a San Pellegrino